Una seduta di consiglio comunale molto lunga, quasi 5 ore in aula, e che ha visto l'approvazione di delibere molto importanti nonostante l'assenza dell'intera giunta comunale azzerata dal sindaco Nicola Giorgino, che assieme all'ingegner Piscitelli ha dovuto discutere tutti i punti all'ordine del giorno. Prima dell'inizio della sisse la dottoressa Rosa Roberto ha preso il posto in aula della dimissionaria Sabina Leonetti. Inoltre la stessa è stata inserita in quarta commissione. Nella lunga seduta non sono mancati botte e risposta tra il primo cittadino e il consigliere del PD Giovanni Vurchio. Il segretario cittadino del Partito Democratico, tramite due interpellanze inerenti alle condizioni di degrado in cui versano il centro storico e il quartiere di San Valentino, ha accusato Giorgino e la sua amministrazione di totale immobilismo e ha chiesto interventi immediati per ristabilire ordine e legalità. Nelle interpellanze si è discusso anche di alcuni disservizi della raccolta differenziata nel settore terziario e Giorgino ha ribadito che per questa problematica è necessario modificare il regolamento dell'Atari 2015 per poi creare apposite piattaforme di raccolta. Poi spazio alla delibera urgente presentata dal consigliere Marco Di Vincenzo in merito al rilascio delle autorizzazioni per i deors delle attività commerciali del centro storico e del centro cittadino. I consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno chiesto l'immediata sospensione del consiglio per poter leggere l'atto di indirizzo. Sospensione accettata e lunga discussione in aula per la mancata approvazione di un regolamento sui deors, ma è approdato in consiglio comunale dopo alcune modifiche l'atto di indirizzo per l'autorizzazione dei deors. È stato approvato a maggioranza con il rilascio delle stesse e sino al 31 dicembre 2018 inoltre sono state annullate. Tutte le sanzioni combinate dalla Polizia Municipale e revocati i provvedimenti di diffida per la demolizione dei deors. Il regolamento sarà trasmesso nel più breve tempo possibile allo stesso consiglio comunale che provvederà ad approvarlo. La massima sise comunale si è conclusa con l'approvazione a maggioranza della variazione di bilancio 2018-2020 per l'erogazione del Fondo Incentivante 2016 al personale dipendente del Comune della Sostituzione nell'Aro del Consigliere di Missionario Giuseppe Chieppa con il Consigliere Riccardo Frisardi della Variante allo strumento urbanistico per l'ampliamento dell'insediamento produttivo della Gemitex SPA dell'acquisizione ad emagno pubblico di aree censite in catastro dei terreni del Comune di Andria ed infine l'indizione di gara pubblica per la concessione quinquennale del Laboratorio Urbano Officina San Domenico. Chiusa la discussione generale.